Il Ferragosto condizionato dalle mucillagini in mare non scongiurerà le feste in spiaggia che avranno anche quest'anno il loro polo d'attrazione, soprattutto nell'arenile Sottomonte di Pesaro. Tanti però anche gli appuntamenti culturali fra musica e musei nel Ferragosto di Pesaro, capitale della cultura. Concerti che saranno apertura e chiusura di giornata dall'alba a mezzanotte. Si comincia infatti le 5.45 all'ombra della scultura riflesso dell'Ordine Cosmico all'imboccatura del porto di Pesaro. Una suggestiva alba di contaminazione fra musica, danza e scultura nell'ambito del progetto Lo Spazio in Ascolto. Alle 21.30 ci sarà invece il concerto di Annalisa Minetti nel palcoscenico della Palla di Pomodoro. La Minetti spazierà fra cover di grandi classici e suoi pezzi originali in una performance che sarà aperta dalla giovane cantante pesarese Lili. Musica di ogni genere perché le Rossini Opera Festival non va in ferie a Ferragosto. Alle 11.00 di mattina nuovo appuntamento con i concerti al Museo Nazionale Rossini con gli allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. Alle 16.00 invece una rarità del ROF con la cantata Il Vero Maggio al Teatro Rossini. A Pesaro saranno poi aperti tutti i musei sia al mattino che al pomeriggio così come sono attivi i tour organizzati. Il tour capitale che ora include anche l'inedita visita a Rocca Costanza e il tour escursionistico del Parco San Bartolo. Escursioni e natura protagonisti anche nella settimana del progetto Capitale al Quadrato dedicata alla riserva del Furlo con appuntamenti organizzati dal centro visite della riserva e con la visita in anteprima assoluta al Parco delle Sculture con Andreina De Tomassi e Antonio Sorace. Sarà la musica a farla da padrona nelle Ferragosto Serali di Fano in zona Lido protagonista il rock con il concerto di Catch the Giant a partire dalle 21.00 dopodiché il Popolo della Notte potrà scatenarsi al porto in Viale Adriatico con DJ Samuel dei Subsonica. A Mondavio invece uno degli appuntamenti più suggestivi della provincia con la serata conclusiva della rievocazione storica della caccia al cinghiale. Dalle 18.00 a mezzanotte una lunga serata di tuffo nelle atmosfere rinascimentali fra dame, ancelle, balestrieri, il paglio delle contrade e spettacoli di fuoco e falconeria. Grande serata di feste e musica in piazza anche a Carpegna mentre a Gabicce Mare il Ferragosto si chiuderà con un grande spettacolo pirotecnico nell'area del porto condivisa con Cattolica.